Per gli appassionati della letturatura italiana oggi sarà ancora più facile seguire le orme del sommo poeta, percorrendo i luoghi che Dante Alighieri ha attraversato durante il suo esilio. Un pacchetto turistico presentato al Biti di Milano che coinvolge 40 operatori tra Romagna e Toscana, frutto della sinergia tra le due regioni. Sì, questo prodotto turistico è nato alla stesura del secondo protocollo d'intesa tra le due regioni, Milano e Toscana, voluto dai nostri due assessori regionali Corsini e Cioffo. E' stato presentato la BIT 2017 e qui alla BIT 2018 abbiamo portato come promesso la prima brochure che sarà pronta fra pochi giorni anche in inglese, francese e tedesco. E i primi pacchetti che sono stati prodotti dai nostri 40 operatori sulla prima via di Dante. Le vie sono tante ma siamo partiti con la via che coinvolge 7 comuni da Firenze a Ravenna, passando per Marradi, Brisighella, Faenza e procederemo poi con le prossime. Quindi per poter offrire al turista del mondo un'emozione incredibile e unica per visitare i luoghi che Dante ha attraversato.